Queste linee guida per i piani di logistica urbana sono stati realizzati in occasione di un progetto di ricerca che ha coinvolto alcune università italiane e che è stato finanziato dal Ministero dell'Università. Hanno come obiettivo quello di supportare l'azione di governo delle amministrazioni locali proprio nella redazione di questi piani per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. E soprattutto danno delle indicazioni sull'utilizzo di metodi quantitativi per la valutazione ex ante di soluzioni di logistica. Cioè prima che queste misure vengano implementate e realizzate. Mentre in precedenza si lavorava con un meccanismo di tentativo, spesso si ritornava indietro, c'erano anche degli sprechi. Quindi l'utilizzo di questi strumenti può dare delle indicazioni sull'efficacia di alcune misure in alcuni contesti piuttosto che altre misure. Mentre in precedenza si lavorava con un meccanismo di potere. Mentre in precedenza si lavorava con un meccanismo di potere. Mentre in precedenza si lavorava con un meccanismo di potere. Mentre in precedenza si lavorava con un meccanismo di potere.